amici pari trovati ciao a tutti eccoci qua con sergio e papà ok allora oggi puntata sorpresa e regalo di papà abbiamo abbiamo sergio abbiamo il cubo magico di old wheels chissà che cosa c'è qua dentro ma abbiamo qualche indicazione a eccola qua questa abbiamo la scatola delle sorprese all'interno album da colorare e macchinine escono anche delle motociclette escono anche delle moto secondo te sì dobbiamo dobbiamo vedere dobbiamo scoprirlo insieme dobbiamo scoprirlo insieme allora sergio vogliamo procedere con l'apertura della scatola vedi un attimino vedi un po come procede come procede molto bella perché c'ha un lato giallo questa scatola un lato rosso un lato blu poi l'altro lato di che colore sempre rosso sempre rosso e sempre blu bellissimo non sai come si apre allora interveniva va allora dobbiamo aprire qua dobbiamo togliere abbassare questa qua vai solleva solleva la parte gialla è un uovo abbiamo un uovo è venuto fuori tiriamolo fuori tiriamolo fuori è bellissimo ma è grandissimo aspetta 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 solleviamo solleviamo eccolo qui aspetta questo qua è l'ovone gigante sembra proprio l'uovo di pasqua ci sono un sacco di sorprese questo è l'album da colorare è aperto fammelo vedere un attimo fa vedere com'è la copertina e l'auto abbiamo hot wheels hot wheels color booking bellissime tantissime macchine c'è da colorare con le macchine è tutto macchine e poi abbiamo dei sacchettini ci sono due due pacchi di moto abbiamo dei sacchettini vediamo un attimo due pacchi di moto lo apriamo papà procediamo con l'apertura eccolo qua apriamo prima questo vediamo che cosa viene fuori bellissima che macchina piccolina è rossa è rossa bellissima è rossa si 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 di ristorante qua invece che cosa abbiamo speed bikers abbiamo la speed bikers questo li mettiamo di qua qui non li abbiamo già aperto apriamo anche quest'altra abbiamo anche qui la base la base il trambolino per farle saltare le nostre macchinine un'altra base del trambolino e poi abbiamo si avevi ragione abbiamo la moto allora è uscita quella verde è uscita la moto verde ma questa qua c'hanno pure la frazione queste corrono saranno velocissime infatti corrono sono velocissime dopo possiamo fare anche una gara adesso facciamo avanti la gara e poi abbiamo chissà che cosa c'è qui dentro forse c'è qualche altra moto c'è qualche altra moto tu dici si vedi vedi probabile apriamo apriamo il sacchettino apriamo il sacchettino si si abbiamo anche qui anche questa volta il nostro trambolino e abbiamo la moto la moto blu la moto blu adesso ci prepariamo per fare una gara no ora devo aprire questa abbiamo anche ancora un'altra sorpresa quindi sono uscite due moto una blu e una verde poi la gara il filo del teschio e la macchinina rossa che possiamo mettere qui poi c'è la possiamo mettere così e di così ok mettiamola qui vicino vicino e poi abbiamo questa pallina qua c'è sicuramente qualche altra sorpresa qualche altra sorpresa oh secondo me c'è una pallina vediamo un attimo cerchiamo di aprire vediamo un attimo come possiamo aprire questa pallina se deve usare un cortello mi sa che ci vuole qualcosa per aprire la pallina si 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 forza aspetta ok abbiamo ci possono uscire in quest'album queste certe di macchine wow che sono da colorare e sono da colorare ecco qua abbiamo liberato la pallina della carta adesso vediamo come aprirla wow abbiamo un'altra macchinina no due due no una forza no è una abbiamo un piccolo pick up e questo qua che cos'è questo che cos'è è e poi raggiustare una macchina forse chissà cosa serve questo non lo so non lo so adesso vediamo dai allora adesso vale posizioniamo queste nostre macchinine che sono venute fuori e facciamo e facciamo una gara va bene una gara con le macchine moto ok iniziale a sistemare va va mettele tutte quante in fila procediamo con una gara ok facciamo una grandissima gara di macchinina e di moto ciclette e di moto sono tutte quante pronte in posizione vediamo chi arriva più lontano allora lanciamo la prima la macchinina rossa vediamo chi arriva più lontano chi arriva più lontano vince gara numero 1 partita no si è fermata adesso dobbiamo lanciare la moto la moto azzurra si è fermata lì adesso lanciamo la moto verde e vince vittoria della moto verde ha vinto la moto verde rifacciamo 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 la gara eccoci qua siamo ci ha esito quest'uovo perché se volete portare queste quattro macchine in giro come le potete mettere l'uovo e potete portarlo è giusto 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 molto bene allora va siamo pronti per la seconda gara adesso abbiamo posizionato anche i trampolini vediamo un attimino se le nostre amiche moto e macchine riescono a fare un salto allora adesso ti faccio vedere poi dopo il secondo la seconda la lanci tu va bene allora va le devi lanciare così verso avanti pronti la moto verde sul nastro di partenza pronti partenza via mamma come è arrivata lontanissima la moto verde bravissima andiamo con la moto con la moto adesso la moto blu no avanti devi no no devi fa così guarda la moto blu pronti partenza via ottimo vediamo adesso la macchinina rossa ha fatto l'impennata ha fatto l'impennata questa la devi lanciare dietro la devi tirare dietro vai tira lascia via è andata fuori pista vediamo ora adesso vediamo questa azzurra questa devi lanciare avanti bravissima questa ha perso hanno vinto quale hanno vinto le macchinine le moto con la macchinina la macchinina rossa invece squalificata perché è uscita fuori pista vogliamo fare un'altra gara no basta ok allora papà non ci resta non ci resta che salutare i nostri amici Sergio salutiamo i nostri amici allora mi raccomando se vi è piaciuto il video pollicione ma iscrivetevi al canale ma la cosa importante iscrivetevi al canale così non vi perdete nessuno dei nostri video un caro saluto da Sergio e papà ciao